Sono tre i fascicoli sulla scrivania del comandante della polizia locale di Montesilvano, tre anche le aggressioni del pitbull di Via Spagna verso animali e persone, l'ultima in ordine di tempo ieri mattina, la ricostruzione del comandante Nicolino Casale. Verso le 12.30 è arrivata una segnalazione al comando di un pitbull vagante della zona di Via Spagna dietro la stazione che aveva aggredito prima un cagnolino e ammazzato un gatto e successivamente aveva aggredito una signora anziana di 87 anni e un'altra signora di oltre 50 anni, 53-54 anni, procurandole delle ferite. La signora anziana, a seguito dell'aggressione del cane, è caduta a terra. Stiamo ancora in attesa del referto e pare che questa signora si sia potuta rompere il femore. Quindi non sappiamo cosa sia l'entità del danno. A seguito dell'entità del danno noi ci comporteremo di conseguenza. Qualora il danno superi i 20 giorni, noi apriremo un fascicolo di ufficio alla Procura della Repubblica di Pescara. Chiaramente rischiano una denuncia per lesioni personali. Ora dove si trova il cane? Il cane adesso si trova perso il canile della ASV che dovrà decidere quale sarà la sorte di questo cane. Sorte che prevede anche l'abbattimento. E questa mattina, sempre a Montesilvano, un altro pitbull vagante è stato segnalato alla polizia locale, incontrato a Chiappinello. Per fortuna, senza alcuna conseguenza. Alcuni cittadini l'hanno fatto entrare in un recinto. Verso le 7.30 sono arrivati i nostri agenti, la ASV che è stata molto molto tempestiva, e hanno preso questo cane. E' uscito fuori il proprietario che l'ha portato in casa, il quale sosteneva che il vento gli aveva aperto il cancello e che il cane era andato fuori. Promestando che noi, i verbali per malgoverno dell'animale, lo faremo sempre. Verbali e contravvenzioni che naturalmente sono scattati anche per il proprietario del pitbull di ieri. Il consiglio per chi deve gestire questi cani è sempre lo stesso. L'anno passato, nonostante l'esigo personale, noi abbiamo rilevato circa oltre 250 contravvenzioni per malgoverno degli animali e per abbandono di questi cani, nonché per quanto riguarda le deiazioni canine. Quindi vuol dire che c'è una grossa, grossa disattenzione nel tenere questi animali. Quindi io faccio un appello a tutti i proprietari. Teneteli gli animali, per carità, però teneteli come vanno tenuti. Come esseri viventi e rispettateli, perché facendo così non li rispettate.